Guardi, volevo testare, lo dicevo prima, di termini di quartetti, delle giocatrici che all'andata non avevo avuto modo di provarle, ho fatto riposare la Blanco in prospettiva dei quarti di finale, anche Nega in un piccolo affaticamento l'ho fermata, proprio perché io ero tranquillo del risultato dell'andata e quindi dovevo testare altre giocatrici, altre situazioni in prospettiva, perché dei finali sono nube. Sono molto faticose e ho bisogno di tutto l'effettivo. Le ragazze hanno risposto bene, in certe situazioni dobbiamo un po' maturare, però mi ritengo soddisfatto, l'importante era passare il turno con tranquillità, l'abbiamo fatto, a fin dei conti se l'arbitro non cominciava a fischiare qualsiasi cosa che gli passasse sotto il naso non avrebbero mai segnato, quindi poi alla fine va bene così. In crescita, sicuramente in crescita, stiamo lavorando appunto per questo, sono convinto che faremo un grande quarto di finale, quello che è importante è chi avrà più voglia di raggiungere le semifinali, quello farà la differenza.